Musica Potente appara ragazzi, qua è Axel, oggi sono i miei gatti, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi il mio nuovo video che ragazzi è l'ultimo pack opening di questo nuovo team of the season perché ebbene si ho deciso di dare un attimo il cambio, o meglio di sostituire all'Axel's Road to Glory episodio 3 se non sbaglio questo nuovo pack opening, perché? Perché non so se vi ricordate ma vi ho detto che un team of the season voglio trovare nei pacchetti quindi oggi cosa faremo? Allora come vedete ho 223.000 crediti perché ho venduto James Rodriguez che ormai sto prendendo tutti i pinpale, tutti i wager match, quindi vendo ciò che mi è rimasto e adesso apriremo 113.000 crediti di pacchetti sperando di trovare un team of the season perché uno devo trovarlo, cioè va proprio della mia dignità, un team of the season è da trovare ragazzi quindi se volete portare in fortuna lasciate un bel mi piace, easy easy, io di partirei, ripartirei io partirei subito con il primo pacchetto e vi volevo ricordare di passare la via noi stessi se siete interessati a comprarti di FIFA ma secondariamente vi volevo dire che se vi vedete vestito come l'altro magari trovassimo subito un team of the season come l'ultimo video è perché sto facendo questi due video appunto nella stessa giornata, cosa abbastanza tattica, primo pacchetto non abbiamo trovato assolutamente niente secondo pacchetto ti prego un team of the season, anche uno di più scarso anche il più, oh però ci mette tanto qua, anche il più scarso mi va bene chiunque, mi va bene chiunque il più scarso, ti prego, ti prego uno, no, io so già che questo poco meno andrà a finire che, ma no, spendo notificamente e non troverò niente terzo pacchetto, ti prego, ti prego, ti scongiuro, no, c'è, ma non so se voi lo conoscete mattac di gamer, ne ha trovati 15, 15, si è fatto il team due volte niente ancora, niente ancora, ma noi ci crediamo eh vediamo se nel pacchetto gratis c'è qualcuno oh ragazzi lasciate mi piace, so perché non l'abbiamo ancora trovato, perché bisogna mettere mi piace tu che stai guardando questo video, lascia un bel mi piace vediamo se arriviamo a 4000, cioè io sarò ancora in gita quando caricherò questo video, quindi fatemi tornare e fatemi vedere allora no, dato che trovo lo stesso giorno, un bel 2500 mi piace ma poi il giorno dopo ne voglio 4000, 4000 e troviamo l'ultimo decisiono ragazzi ah potremmo aprire anche quelli speciali d'argento che non sarebbero male però vediamo, quarto o quinto pacchetto, no, quinto pacchetto dovrebbe essere, ma andiamoci ti prego, ti prego, ti prego, no, no, non troviamo niente alaba, alaba ti prego, tu ti prego, devo trovarlo ho aperto 800.000 di crediti di pacchetti e non ho ancora trovato uno me ne basta uno, uno ti prego no, no, sta girando male ragazzi, sta girando male qua bisogna aprirlo col naso, è l'unica, è l'unica e poi non guardiamo, l'abbiamo lasciato lì eh, guardate le mani dal seno uno blu, chiunque, chiunque, ti prego, ti prego, ti prego madonna, ancora niente zio pera allora, fate così, fino a 155.000 crediti apro quelli d'oro poi mi do agli argento e gli ultimi 4-5 la prendo di bronzo almeno uno dovrò pure trovarlo ti prego, ti prego, preferisco un tozzo da 2.000 crediti che non vali neanche più tu l'anno scorso costa 200.000 crediti, quest'anno le costa 10 volte meno Vidal, 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 Vidal è lui, Vidal è lui, lo sappiamo Vidal è Vidal oh, battiamo due volte le mani oh, battetele con me, l'avete battute? dai, oh eh? no ragazzina, pure chiamato mia mamma, non possiamo trovare niente adesso, chiunque, mettiamoci i pugni sugli occhi perché i pugni, non lo so dai, oh, un team of the season, uno mi basta mezzo di uno una carta colorata, no, niente ancora abbiamo trovato questo esterno con 92 velocità ma non me ne frega niente probabilmente se io adesso trovassi Messi non sarei contento lo stesso ma anche se io voglio uno, ne vogliamo uno blu uno, oh, tutti l'hanno trovato, tutti poi ci sono youtuber italiani che hanno una fortuna mamma mia oh, dai, dai, ti prego ti scongiuro dai, oh, Vidal, oggi mi ha detto tanto un team of the season ti prego ragazzi, io mi ritengo uno dei più sfortunati su YouTube no, veramente assolutamente è assurdo qual è il peggio aperto? 80.000 crediti? ancora trovato niente madonna dai, oh, Alaba, ti prego uno blu non trovo neanche più giocatori che non ho da quanto ho speso primo d'argento dai, uno qua, uno qua ti prego ti scongiuro quante volte avrò detto ti prego, non ne ho idea ma io voglio trovarne uno blu niente non è umano non trovare niente non è umano ma al posto di farne trovare 15, parlo pure al contrario farne trovare 15 a una persona e non le posso far trovare 7 a lui uno a me me ne basta uno uno, è qua è qua lo sento non è vero ma non ci credo no ultimi tre dai, Kail dai, ti prego non guardo no Alaba 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 oh, cazzo dai, oh Alaba 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 Oddio ultimo pacchetto ragazzi, per questo ultimo pacchetto farò una cosa non so se avete visto ma lo youtuber inglese o americano Roy To Show ha aperto un pacchetto e senza guardare ha scartato tutto ciò che c'era all'interno io farò la stessa cosa con l'ultimo pacchetto e chi lo sa se troveremo adesso un team of the season quindi copierò palesemente Roy To Show Fote Sega lo ringrazio anche se non so anche se sono sicuro che non riguarderà sto video comunque andiamo oh io non guardo eh e vado direttamente poi a scartare ovviamente adesso cercherò di farmi vedere da voi anzi no mi giro direttamente vediamo se almeno trovo un blu anche se poi lo scarto allora adesso dovrebbe essere così così e così dovrei aver scartato tutto eh e come faccio a saperlo? ho scartato tutto va bene ora apro l'ultimo io via così e poi andrò a vedere cosa ho trovato ebbene sì ebbene sì saltiamo ho inutile neanche qua niente comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto bel pack offering devo dire allora nei pacchetti che io ho aperto non ho trovato niente magari ho trovato qualcosa in quello che ho scartato quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica comunque anche se non credo perché i crediti non sono cambiati e magari lasciate un bel mi piace per farmi seguire un po' il morale perché abbiamo speso 130 in questo team of the season questa settimana ho speso 900.000 crediti non ho trovato neanche uno spero di trovarne due comunque ragazzi detto questo spero che il video vi sia piaciuto vi esorto lasciate un bel mi piace arriviamo a 4000 e detto questo dunque vi risaluto e vi dico potente passiamo al prossimo video bolla